buonasera e benvenuti allo sport city dove si stanno per incontrare etsd e wild foxes gara valevole per la decima giornata del campionato di calcio a 8 serie b intervento difensivo che ferma tutto ancora palla in possesso delle wild foxes palla dentro poi c'è la conclusione da parte del numero 7 che porta in vantaggio la squadra ospite 1 a 0 wild foxes la cia punizione etsd è pronto il numero 5 la battuta numero 5 c'è l'intervento da parte del portiere delle wild foxes che col campo scivoloso compie una parata non semplice tiene sua in vantaggio ripartono le wild foxes in contropiede parla in avanti per il numero 9 che 2 a 0 wild foxes a segno valerio borrelli fagiolo e canali alla fine c'è la finta e canali c'è l'intervento da parte di ciglione che ferma tutto ancora una volta carico vicino la rosa in mezzo a 2 buona giocata pallone largato per ruggiero la rosa e c'è la rete del 2 a 1 dell'itsd grandissima giocata da parte di la rosa che porta i suoi sul 2 a 1 e accorcia le distanze sarà ancora calcio d'angolo per l'itsd sul punto ribattuta sempre ruggiero palla dentro di ruggiero colpo di testa di fagiolo 2 a 2 itsd diego borrelli passaggio spagliato troppo corto riparte schiavoni canali sinistro di canali e ciglione ancora una volta non si fa cogliere in preparato e mette rimesso laterale numero 6 attaccato la rosa che gli scippa il pallone canali la rosa la rosa sinistro di la rosa e alla fine incredibilmente fagiolo toglie il pallone che stava entrando in polo secondo di ciglione e finisce qui 2 a 2 un tempo per parte primo tempo tutto di marca del wall fox il secondo tempo per gli etsd che recupera la partita